Il Consiglio regionale della Toscana, in apertura dei lavori, ha dedicato un minuto di rumore per ricordare Giulia Cecchetin e le altre donne vittime di femminicidio. Al centro dell'aula, sopra la bandiera Col Pegaso, sono state collocate un paio di scarpe rosse, simbolo che rappresenta la ferma condanna nei confronti delle violenze e dei femminicidi e solidarietà ai familiari delle vittime. Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia Cecchin e che parla del patriarcato, perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare, perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene, ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge, nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità e soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che non, come è stato detto, non vede, non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate, che quindi in qualche modo vanno contenute, perché lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne, è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari, quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni ma anche come singoli, questo spero che sia il messaggio che riesca a parlare e soprattutto che ogni femminicidio che accade fosse anche uno, è sempre troppo, è sempre una sconfitta dell'intera società, uomini e donne. La violenza sulle donne, la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo, anche se abbiamo proposte di legge, obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione, le nuove generazioni femminili, ma direi non solo femminili, io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile, il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo, deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo, quindi il problema è un problema obiettivamente culturale. Io, nella mia esperienza, essendo un medico di pronto soccorso, sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici. Ho fatto parte del Codice Rosa, venendo dalla provincia di Grosseto, quello che è stato il primo nucleo del Codice Rosa, che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo. Io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta, donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto e devo dire la verità che molto spesso, specie se si parla di località più piccole, magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio, quello che succede più frequentemente è il maltrattamento. E oserei dire che il problema comincia da lì. Quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi. E quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini, deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti in cui si impara, dove gli uomini possano imparare, a gestire in maniera diversa la loro rabbia. Io penso che indubbiamente siamo di fronte a un tema che è assolutamente legato alla cultura di oggi. Ci sono diversi ambiti, secondo me, dove si forma quella che è la cultura del rispetto, anche nei confronti delle figure femminili. La famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi, onestamente, quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato, ho qualche dubbio, perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni, che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi, che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare, anziché, come dire, andare a trovare un capo ispiratorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento. È chiaro che in un contesto in cui tutto quanto è stato relativizzato, compreso la possibilità oggi di un adolescente di dichiararsi uomo o donna a seconda della sua, come dire, sensibilità del giorno, viviamo in un mondo in cui purtroppo anche la violenza nei confronti di una ragazza, una violenza che si è manifestata in modo brutale, di un giovane, del quale potremmo indagare all'infinito le motivazioni, ma non riusciremo mai a comprenderle fino in fondo, se non guardandoci davvero intorno e interrogandoci tutti, anche come genitori e anche nel momento in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini vanno a scuola, su ciò che noi riusciamo a trasmettere loro, perché questa è la nostra vera sfida, una sfida culturale, una sfida familiare, una sfida di recupero dei valori complessivi. Io credo che se facciamo tutti quanti uno sforzo, al di là di quelli che possono essere gli interventi normativi, forse riusciamo, come dire, a bloccare questa deriva e questa relativizzazione di valori, perché oggi io credo che veramente è questo l'allarme più grosso che abbiamo nei confronti di tutti i nostri adolescenti, ma penso anche a tutti quei bambini che vivono una dimensione di infanzia ingenua, ma che fin da piccoli devono capire che all'interno dei nuclei familiari ci sono delle regole, dei principi ben precisi. Quindi è una sfida culturale importantissima. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Gli atti, che sono stati integrati con un maxiemendamento presentato dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni, sono passati con il voto favorevole di PD e Italia Viva e il voto contrario delle opposizioni, approvati all'unanimità un ordine del giorno di Fratelli d'Italia, che impegna la Giunta a chiedere ad Arera la rimodulazione delle tariffe idriche per andare incontro a imprese e cittadini, che per liberare case e aziende dal fango sono costretti a un eccessivo consumo d'acqua. Ha approvato anche un emendamento alla terza variazione presentato da Fratelli d'Italia per la concessione di un contributo straordinario di 150 mila euro per l'anno 2023 a favore delle famiglie con figli minori disabili che non hanno ancora avuto accesso alle risorse già stanziate. Siamo in variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno. Quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione, che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà, che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in indignere, quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'endito in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere dopo aver approvato una legge regionale in cui lavoreremo in questo mese perché noi vogliamo allargare questi ristori ai cittadini e alle imprese non solo a quelle imprese e a quei cittadini che sono stati inseriti nell'ordinanza che mi ha nominato commissario perché in quel caso io potrei dare ristori solo a chi è stato sgomberato, a chi ha avuto l'abitazione o l'impresa inagibile, a chi ha avuto danni strutturali seri alle proprie immobili, che sia impresa o che sia abitazione. In realtà spesso quando io nei numerosissimi sovralluoghi che faccio vedo la famiglia o l'impresa in difficoltà mi si dice ma io ho perso tutto, in questo seminterrato c'era tutto, la macchina e la moto sono andate alluvionate e quindi inutilizzabili. Queste tipologie nell'ordinanza in realtà non potevo avere l'ordinanza fatta dal governo. Ecco la necessità di prevedere con legge regionale poi la capacità di spendere quello che ho detto. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole e facciamo accesso, io l'ho chiesto da subito, subito nei primi giorni dell'alluvione, al fondo di solidarietà europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al comitato delle regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Guardate, i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Noi mettiamo subito le cifre che ho detto, ma non bastano, sono davvero solo risorse per l'emergenza. Come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti, però dobbiamo fare di più e quindi chiediamo al governo che faccia velocemente la propria parte, che metta tutte le risorse che servono e poi l'altro appello che voglio fare è di evitare tutta la discussione rispetto al commissario per la ricostruzione. Il Presidente Gianni, lo stiamo vedendo in questi giorni, sta gestendo in maniera positiva, molto positiva, la fase emergenziale. E allora al governo chiedo che il Presidente Gianni sia anche il commissario per la ricostruzione, che queste risorse arrivino presto e che possa lavorare per dare risposte a tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Non è il tempo delle polemiche, è il tempo di lavorare tutti insieme perché cittadini e imprese hanno bisogno di risposte concrete. Una variazione è quella che viene licenziata dal Consiglio regionale che tocca alcuni aspetti fondamentali nel governo dei territori della Regione Toscana. Da una parte, come spesso accade con le variazioni di bilancio, soprattutto con la terza variazione di bilancio, si interviene nel settore della cultura con uno stanziamento importante che traguarda gli 8 milioni di euro per il settore dello spettacolo. Ma non mancano anche importanti risorse che sono destinati ad eventi culturali del nostro territorio regionale come il Carnevale di Viareggio o il Festival Puciniano. Si conferma anche il contributo di 1.100.000 euro per il Teatro del Maggio Fiorentino. Ci sono poi risorse significative che sono destinate alla scuola. In particolar modo, 500.000 euro vanno ad integrare le risorse per il diritto allo studio e sono 600.000 euro i contributi che vengono destinati alle scuole materne non statali. Ci sono poi tutta una serie di misure particolari che riguardano i singoli territori della Toscana che vanno a sostegno di comuni ed altri enti locali per interventi che vanno dalla messa in sicurezza del territorio all'edilizia scolastica fino ad arrivare ad alcuni interventi puntuali inerenti all'edilizia sanitaria. A tutto ciò si deve aggiungere anche uno stanziamento di 10 milioni di euro che va ad alleggerire il fondo sanitario secondo le indicazioni della Corte dei Conti. Quindi una manovra che tiene conto da una parte delle esigenze generali della Regione soprattutto per quanto riguarda la buona tenuta dei conti della Regione stessa dall'altra parte però una manovra che non rinuncia a dare risposte concrete ai territori e al bisogno di sostegno che sempre più spesso i comuni reclamano. Siamo abituati come consiglieri regionali purtroppo in questa legislatura a essere spesso presi in giro dal Presidente Gianni ma non accettiamo che in questo caso a essere presi in giro siano i cittadini toscani, le imprese toscane, i comuni alluvionati. Anche quest'oggi è venuto in Consiglio regionale come centrodestra avevamo presentato una serie di emendamenti alla terza variazione di bilancio di un importo circa di 10 milioni e è venuto in Consiglio regionale a dirci voi ci chiedete 10 milioni ecco noi ne mettiamo sul piatto 25 milioni. Eravamo pronti e ci siamo riuniti abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti essendo felici perché noi eravamo felici del fatto che il Governatore e la Regione Toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale quindi buoni intenti un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico ma siamo veramente arrabbiati indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Questo non lo permetteremo veramente per quanto mi riguarda io faccio politica da circa dieci anni e una cosa così non mi era mai mai successa non siamo disposti a far sì che si continui a prendere in giro nessuno non siamo disposti che si continui a dire e qui c'ho un altro documento molto interessante che qualcuno ha anche scritto in passato che non c'erano e non ci sono progetti per quanto riguarda opere canteriabili sul rischio idrogeologico ci sono c'erano e lui ha fatto esempi come lo Stella il Bisenzio il Furba ecco queste sono tutte opere che non è che ho scritto io che ha scritto la Lega o che ha scritto il Centrodestra ma che arrivano dal distretto dell'Appennino settentrionale quindi da chi si occupa di fare cantieri di opere di realizzare opere sul rischio idrogeologico ci sono le opere e ci sono anche i soldi messi a disposizione ormai da più di due anni quindi non si può dire che in questa manovra di bilancio non ci sono opere canterabili non ci sono indirizzi non ci sono risorse perché perché non ci sono perché la politica e la maggioranza non ha voluto in questo bilancio mettere nessuna risorsa a disposizione dei cittadini e delle imprese toscane questo dobbiamo dire oggi basta spot basta annunci sulla pelle dei toscani siamo consapevoli che sarebbe stato stupido dire prendete tutti i 30 milioni del bilancio e mettiamo gli alluvionati l'avremmo potuto fare e fare della demagogia ma in maniera seria abbiamo studiato la modalità di farli creare un fondo parallelo a quello nazionale abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10 quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste va studiato in base alle possibilità di spesa perché capiamo bene che è un fondo che dovrebbe essere speso da oggi al 31 dicembre quindi può darsi anche che 10 milioni rischerebbero di non essere spesi tutti e 10 quindi magari doveva essere semplicemente un'integrazione a cosa servivano questi soldi servivano a ristorare quelle famiglie che hanno perso tutto e che ad oggi non possono essere ristorate perché i 5 milioni stanziati ricordiamolo e sottolineiamolo dal governo nazionale alla regione toscana fino ad oggi servono come primo ristoro per chi ha l'abitazione inagibile quindi se tu hai perso l'automobile la moto il garage la taverna la pertinenza di casa non sei ristorato quindi il nostro fondo andava ad integrare il fondo nazionale per andare a dare un ristoro a chi aveva perso parte della propria abitazione a chi aveva perso il veicolo con il quale va a lavoro la mattina lo abbiamo detto oggi in aula e il presidente Gianni è apparentemente tornato sui suoi passi e ci ha sfidato dicendo aprendo il suo intervento dicendo il centrodestra chiede 10 milioni per integrare il fondo nazionale io ne ho messi 25 ha detto una bugia ha mentito ai toscani perché nel bilancio che oggi noi andiamo ad approvare non c'è un centesimo e sfido il presidente Gianni a dimostrare il contrario non c'è un centesimo a disposizione delle famiglie toscane ci sono ad oggi 6 barra 7 milioni di euro accessibili alle imprese agricole che hanno subito danni punto punto allora si può fare politica in tante maniere si può fare politica si possono avere idee diverse in politica ci si può confrontare sui diversi approcci sui diversi modi di erogare questo tipo di ristori ma non si possono prendere in giro le persone voi domani racconterete perché lo dice il presidente Gianni che in questa variazione di bilancio ci sono 25 milioni a disposizione degli alluvionati e la Toscana non è vero ce ne sono zero ce ne sono zero c'è una bella promessa che abbiamo votato perché noi siamo responsabili di mettere dei soldi a partire da gennaio 2024 una promessa di Eugenio Gianni ci crediamo l'abbiamo votata ma ad oggi non c'è un centesimo e questo le persone devono sapere quindi mentre mandiamo i fondi mentre spendiamo quelli che sono in bilancio gli investimenti avete letto nel bilancio per gli alluvionati non c'è un centesimo abbiamo capito che quest'anno per quanto riguarda il premio a piena occhio c'è un unico concorrente che può vincerlo che è il presidente della giunta Eugenio Gianni non avevamo dubbi fin dall'inizio ma vedete quando si tratta di gestire l'ordinario si può andare in difficoltà e le critiche dell'opposizione sono molto semplici il tema vero è quando si tratta di gestire lo straordinario e le emergenze nella prima seduta utile che era quella di oggi nella variazione al bilancio all'interno della quale poteva esserci una risposta concreta da parte della regione toscana ci siamo resi conto che le uniche risposte concrete sono quelle legate ai carnevali alle feste del grillo alle ricordenze di paese al recupero degli edifici storici alla festa di paese alle fasce tricolori cioè a tutto ciò che riguarda la promozione la cultura il territorio la valorizzazione degli enti magari qualche taglio del nastro alla presenza del presidente Gianni ma non c'è un euro sul fatto più grave che è successo in questa regione negli ultimi 60 anni nemmeno paragonabile all'Alvione in Firenze i danni sono incalcolabili lo studio dell'IRPET ci dice 2 miliardi e 100 molto probabilmente i danni saranno 4 miliardi di euro tenete conto il paragone sull'Emilia Romagna sono 8 miliardi di euro in quel distretto alluvionato c'è il 35% delle aziende della Toscana e il 40% del fatturato per quanto riguarda i nostri distretti industriali e c'è il 65% dell'export toscano delle nostre imprese cosa pensa di fare alla sinistra di venire in consiglio regionale e di portare una mozione le mozioni lasciamo lì ai consiglieri di opposizione molte volte ce le bocciano lasciamoli ai consiglieri circoscrizionali sugli atti concreti si misura la capacità di fare governo e sugli atti concreti soprattutto quelli emergenziali si misura la capacità di dare risposte della politica io penso che l'unica cosa che dovrebbero fare è rassegnare le proprie dimissioni e mandarci al voto domani mattina rassegnare le dimissioni della giunta e del governatore che vengano a prendere in giro i toscani e le toscane dove ci sono 8 morti e un'economia intera in crisi a presentarci una mozione cosa è successo chi è che ha portato i soldi per il governo è arrivato il presidente italiano ha portato 100 milioni per le imprese a fondo perduto e 200 milioni a tassa agevolato è arrivato il governo con 5 milioni di euro subito sul tavolo fra l'altro ci viene detto che il governo non dà risorse il governo non dà risorse perché sta aspettando che così come è previsto dalla legge che il governatore della regione mandi il resoconto di quanti sono i danni se no il governo non può stanziare le risorse questo lo devono sapere i cittadini e che cosa fa il partito democratico certo nell'assestamento di bilancio del consiglio regionale da 700 mila euro per le ricorrenze degli 80 anni della liberazione nella variazione di bilancio mette i soldi sulla cultura sui tagli dei nastri perché magari a qualcuno mi fa piacere pure andare a tagliare quei nastri e sugli alluvionati non c'è niente non c'è niente per ricomprare la lavatrice non c'è niente per ricomprare le macchine non c'è per esempio l'abbiamo chiesto a Gavroce lo stop del bollo dell'auto e lo stop del bollo dei motorini si continua a pagare ancora cose di cui non possiamo usufruire i cittadini gli alluvenati continuano ancora a pagare cose di cui non possono usufruire e allora onestamente ci siamo anche un po' stancati di essere presi in giro al di là delle battute sul premio Pinocchio che ho reso l'unica cosa che oggi dovrebbero fare per essere credibili è quello di mandarci alle urne di mettersi fare un bel lato farci votare insieme alle amministrative del 2024 noi come sempre siamo pronti e saremo pronti alla sfida elettorale e lo abbiamo dimostrato portando degli atti concreti in consiglio regionale con le variazioni di bilancio da oltre 10 milioni di euro che ricordavano prima i colleghi il ringraziamento va naturalmente a tutti coloro i consiglieri regionali che hanno lavorato nelle commissioni che stanno in aula da ieri fino a stanotte fonda faremo il nostro mestiere la cosa è per noi diventa inaccettabile essere presi in giro essere presi in giro dal Presidente Regione essere presi in giro dalla sinistra essere presi in giro perché a fronte di questo ci sono, lo ripeto 8 morti 4 miliardi di euro di danni il distretto più importante che abbiamo in Toscana che è stato alluvionato una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione un equilibrio dei conti che è fondamentale mette in sicurezza i conti del 2023 soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati quindi una variazione di bilancio importante un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia di Italia Viva di tenere i conti in equilibrio della regione toscana si può fare senza aumentare le tasse il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani Grazie a tutti